Ciao Valè, un saluto da Salvatore e porta il tuo saluto alle pecore, come vedi stiamo dando la razione giornaliera di fieno dopo aver ricevuto la razione giornaliera di cereali, mangiano con grande appetito, guarda questa se l'ha messa anche a cappello la paglia e dopo le avvieremo al Pascolo Brado, su un campo di trifoglio, penso che meglio di così, ecco questa è un'ariette, come vedi sta mangiando di gusto il fieno che tra l'altro è un ottimo fieno di trifoglio e medica e va bene tutto qua, questa è una parte della mia azienda, ti faccio una panoramica delle greggie, sono tutte insieme, una splendida giornata d'autunno, ti saluto Valè, stammi bene, ciao!